salve amici e così che mi dicono che voi due non andate più d'accordo male male cattivi picciotti pace dovete fare poi mi stavo per fare la pennichella ma faccio questo video faccio adesso risolviate tutto mettetevi d'accordo che io vi saluto e sto per dormire ciao dopo fatemi sapere della vostra riconciliazione e basta o avete da finirla andate in pace